vedi quello adesso è sbullonato solci verdi solci verdi guarda è superato questo pezzo poi a vitella così sembra quasi fattibile un po' da sticare di solo è più difficile tutto e devi continuare a camminare così come stai a fare prima eh capito se è tarsi bene allunghi il piede sinistro qua sull'altra cosa c'è un bello spazio guarda perfetto tu vado anche aspetta non mi voglio ancora te lo sei fa pure il fono quello si però si fa tutto il telefonino questo fa i video di alta qualità alta qualità il full hd full hd con il grande con il grande angolo a 170 gradi piantata la panina anche se sto più atteso piantata la panina piantata guarda un po' già sta lo spit sopra vedi che bella presa proprio a sinistra dello spit si riesce a arrivare lì a agganciare lo spicolo io te lo dico ma non ho mai fatto quindi perché lo vedo da qua lo vedo io vado a fare il salto lo blocca lo vedo vado a prenderla a piccola spetta vedi non fate ride se no aspetta si oh blocca che cazzo fai è così sta andando sopra blocca no è così perché sta via eh cazzo sta via la parte difficile cazzo ma sta via sopra allunga allunga il sinistro sopra sopra allora è bello sopra sia a facciamo chiarire chiarire è bello cazzo invidico E' un'altra cosa? ormai sono quasi 11 vassati, non sono quasi 11 vassati, solo cominciamo a picchiare fai le corda ok mancano ultimi due metri alla catena dai è in catena dai 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 dai